Un giovane su cinque si sta cancellando dai social network, la sorpresa della generazione Z. Buongiorno e benvenuti al caffettino, sono Mario Moroni e come ogni giorno, anche ad agosto, le 7.30, siamo qui pronti per parlare di business, di social e tutto quello che è il mondo digitale. Densus Aegis Network, una grande sorpresa in questo sondaggio che rivela che un giovane su cinque si sta cancellando dai social network. Abbiamo sempre in mente quel ritornello e i ragazzi di oggi tengono gli occhi fissi sul telefonino, non si staccano mai da questo schermo, insomma genitori, adulti, nonni anche preoccupati, ma invece sta cambiando, soprattutto sta cambiando l'abitudine della generazione Z. E quindi quali sono i dati? Sono che il 17% dei giovani tra i 18 e i 24 anni infatti ha disattivato i propri profili dei social network, non cancellato, disattivato. Pensate che in Italia si sale dal 17 anche al 25% di quest'età. Quali sono i motivi principali? Beh, la protezione dei dati, il benessere mentale e fisico e la volontà di non finire risucchiati da dibattiti politici sterili. Sono queste le motivazioni? Beh, andiamo a vederne una ad una. La prima, chiaramente, è la protezione dei dati. Abbiamo sentito, visto e rivisto, con molto interesse questa problematica, anche un po' esasperata forse. Forse, a furia di sentirlo dire e ridire, ho detto, vabbè, ok, i miei dati li tengo io. E poi il benessere mentale e fisico, questo molto interessante, perché forse sono più gli adulti, come dire, dipendenti fisicamente anche dai social. E poi ancora, una cosa che purtroppo rifugge, soprattutto dai giovanissimi, e sottolineo purtroppo, è il dibattito politico. Infatti, la volontà di non venire risucchiati in discussioni sterili, gruppi, eccetera, eccetera, allontanano i più giovani in giovani adulti. Adulti che hanno visto il problema Covid-19, hanno visto quanto fosse tutto insieme, tutto fosse anche un po' esasperato, anche nella comunicazione. E quindi, è un po' come vedere tutti i giorni in telegiornali, no? Per un giovane adulto, per un ragazzino, magari non è così interessante. Anzi, i social sono diventati una sorta di telegiornale per gli adulti. E quindi, in questo osservatorio che ha preso, ha recuperato, ha interpellato 32.000 adulti, insomma, emerge che sempre più giovani stiano estragnando delle piazze virtuali. Pensate, in Finlandia, il 34% dei ragazzi, o nella penisola iberica, il 30%, anche in Italia, il 25%, supera di 8 punti la percentuale media mondiale. Allora, che cosa accadrà nel futuro? Non sappiamo se l'avvento di TikTok, Reels e altri metodi di comunicare sui social riavvicinino o meno questi ragazzi. Chiaramente la percezione che abbiamo è una percezione, ma invece i dati ci portano a far sì che i social non siano più chic, in, di culto, di trend, anzi, siano un po' da sfigati, siano un po' da quelli risucchiati, siano un po' come la televisione. E quindi ci aspettiamo che o i social prendano un nuovo interesse, oppure ci siano altri strumenti, anche nel digitale, che vadano a catalizzare le loro attenzioni. E con questo concludiamo anche il caffettino giovane di oggi. È giusto stare all'osservatorio sempre per capire i trend. Noi ci sentiamo domani mattina con altri dati e altre riflessioni. alle ore 7.30 con il caffettino. Mangiate le verdure e fate i bravi! Insomma, ce ne serve, eh? Servono persone brave. A domani!